L'Abruzzo è al penultimo posto in Italia tra le regioni per copertura vaccinale anti-influenzale nella popolazione sopra i 65 anni. Solo il 38,5% dei soggetti a rischio infatti si immunizza. La gente ha paura in maniera inutile. Quando una patologia scompare praticamente l'attenzione scende. Quindi noi abbiamo avuto con i vaccini dei grossi successi su tante patologie, molte malattie sono state eradicate, altre stanno per ricomparire perché quando si abbassa la guardia e un pochettino faccio un esempio, come nelle nostre città, quando i ladri non ci sono per un po' di tempo, non si sente parlare di ladri, la soglia di attenzione si abbassa. La stessa cosa succedendo per i vaccini. Hanno reso obbligatorio proprio per questo, perché con esse abbiamo eliminato molte malattie infettive che colpiscono la prima infanzia, ma che possono anche riverberarsi, ripercuotersi sull'intera vita di un individuo. Poi che ci siano, diciamo, di tanto in tanto, delle reazioni anafilattiche ai vaccini, questo non significa, diciamo, uno su centomila, due su centomila, non rappresentano dati significativi. Perché secondo lei c'è qualche collega che invece dice di non farle? Ma secondo me è un atteggiamento incomprensibile, perché con esse noi abbiamo eliminato tantissime malattie che affliggevano, diciamo, l'Italia, tantissimo. Malattie infettive dell'infanzia e anche dell'età adulta. Sembrerebbe tanto grave non farlo, tanto che si vorrebbe inibire l'ingresso ai bambini non vaccinati nelle scuole. I bambini vanno vaccinati per le vaccinazioni obbligatorie, ma vanno vaccinati anche per le vaccinazioni facoltative. Sugli obblighi e altre cose è una questione politica, noi non entriamo su questo. Certamente quando si vive in comunità bisogna pensare alla salute di tutti, non all'egoismo personale. La campagna vaccinazione parte domani, i medici di famiglia provvederanno a vaccinare i pazienti oltre 65 anni e tutti quelli al di sotto 65 anni con patologie a rischio, come da protocollo.